gentili telespettatori buona giornata vittorio sgarbi lo conosciamo tutti da parlamentare di teleitalia quando faceva il programma televisivo ti ricorda cosa era su italia 1 canale 5 gli sgarbi quotidiani no era subito un mito wow che politico questo sì che è un vero politico si diceva ai tempi no erano gli anni 90 vittorio sgarbi diventa un influencer una persona che è capace di influenzare l'opinione pubblica e come tutti gli influencer che si rispettano lancia anche la sua linea la sua linea di moda ecco abbiamo borse magliette scatolette di legno copri cellulari borse da spiaggia lozioni tutto firmato capra sapete la sua famosa frase televisiva capra 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 no ecco lui sgarbi diventato poi prigioniero di questo personaggio televisivo veniva viene invitato nelle televisioni perché lui fa tutte le sue scene teatrali e così viene invitato costantemente in televisione perché tutti si aspettano che lui dica alcune cose che si arrabbi e così parte da pochi mesi e conti poi a fine anno vedremo quali saranno ma è stata un successo la linea capra lanciata soprattutto attraverso instagram da vittorio sgarbi che ha aperto un sito per la vendita di prodotti legati alle sue più celebri massime e invettive tant'è che sgarbi è diventato un vero e proprio influencer alla chiara ferragni su instagram mettendo le ali ai prodotti con la sua firma con cui scrive sul suo profilo instagram ogni giorno attraverso le storie quindi vittorio sgarbi imprenditore della moda si può trovare davvero di tutto dicevamo magliette a 25 euro con il marchio capra punto esclamativo e anche delle 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 magliette dove c'è scritto odio sgarbi per esempio power bank in puro legno naturale da 28 euro polo copertine per telefonino delle due varie linee di prodotto shopping bag la borsa shopping bag letterarie quindi con delle frasi letterarie o come frasi tipo con scritto incapace ci sono anche le borracce dei termos tacquini con scritto sgarbato e sgarbata se al femminile otto linee di stile compresa quella un po più cara delle limiti anche le le edizioni limitate limited edition di ogni prodotto c'è l'edizione limitata attenzione l'idea è stata della compagna storica di sgarbi sabrina colle io non io pensavo fosse un singolo uno scapolo d'oro sgarbi non pensavo avesse una compagna c'è la compagna storica sabrina colle beh ho scoperto una cosa nuova ed è realizzata questa linea di di prodotti con la collaborazione di una società specializzata nel commercio online la ideo srl di roma controllata dalla italian tobacco manufacturing e dalla rock srl rock o shock because bene adesso vi racconto una cosa probabilmente tutti voi avranno avete visto sul mio sito che ci sono magliette cuscini con scritto teleitalia insomma vi racconto che quella è una cosa che è fatta da youtube in collaborazione con una con un'azienda degli stati uniti dove quando si raggiungono non mi ricordo più se 10.000 o 30.000 iscritti si può fare si possono fare questi gadget ma realmente non si fa nulla non c'è nessun investimento nel senso che c'è una maglietta bianca voi caricate una foto la mettete inquadrata invio ed è fatta la maglietta viene fuori una tazza bianca o nera o gialla voi caricate sulla foto la inquadrate bene e invio e la tazza è fatta cosa succede che se qualcuno di voi la compra è un'azienda americana che ve la invia dagli stati uniti perché qualcuno aveva detto a quelle tazze lì cosa costano non sono io a mettere i prezzi sono dei prezzi imposti per tutti quelli che in youtube hanno queste cose che è una possibilità direttamente che viene da youtube dove non bisogna investire niente ma neanche un centesimo se si vende una tazza con scritto teleitalia ve la spediscono e poi a me danno il 50 al 60 per cento insomma metà la prende questa azienda americana e metà la inviano a me io vi devo dire che l'ultima cosa che si è venduta era tantissimi mesi fa qualcosa come si quattro cinque mesi fa una cosa in totale ho venduto o meglio hanno venduto come sei sei oggetti c'è qualcuno che ha preso una felpa qualcuno che ha preso due tre tazze qualcuno ha preso un cuscino ma mi piacerebbe vedere se qualcuno di voi ha a questa a questa foto a casa con si fa può fare una foto e poi magari mandarmela tramite tramite facebook provate se siete uno di quelli che ha comprato una di queste sei cose provate a mandarmela in facebook ok mi mandate un messaggio nella mia pagina nella mia profilo personale luca vincitore mi mandate questo messaggio con la foto e io la pubblico poi sul in sulla pagina di youtube ecco io vi ringrazio per avermi ascoltato a parte facciamo gli auguri alla linea di sgarbi che non lo so dove dove si vende se sarà una pagina in internet ovviamente ormai ci sono tante aziende che fanno questo servizio è naturalmente per sgarbi può essere un'entrata in più anche che non anche se non credo che a sgarbi manca mancano i soldi c'è una una bellissima casa in centro a roma è parlamentare credo da da tempo infinito non credo che abbia bisogno di questo probabilmente fra poco adesso non so quanti anni ha sgarbi ma a 60 al compimento di 65 anni i parlamentari o senatori che hanno compiuto quattro anni sei mesi un giorno di di lavoro parlamentare tra virgolette hanno diritto alla pensione certo la pensione non è 13 mila euro se non ricordo male qualcosa come 2800 euro si passa da 13 mila 2800 euro diciamo che rispetto a quello che guadagnavano è un po poco per loro che guadagnavano quelle cifre così a che guadagnano quelle cifre così alte grazie a tutti e buon proseguimento di giornata arrivederci